Ti sei perso? Se vuoi posso portarti da qualche parte? Dovevo tornare a casa, Thomas è sparito. Come dicevate anche voi in studio, in Italia ogni due giorni scompare un bambino. Solo quest'anno abbiamo registrato 177 casi di bambini scomparsi e il numero potrebbe essere ancora più elevato in considerazione del fatto che molti di questi casi non sono mai stati denunciati. Ci sono delle novità? Guarda, Antonia, questa donna è un mistero. E' stato partito il mio cuore. No, no. No... No... No, no. No, no. No, no. No, no. Grazie.